Oh, finalmente siamo qua per parlare di sto benedetto argomento che ormai sta caratterizzando un po' tutto il web Stiamo diventando la farsa d'Italia per questa storia del closing In molti me l'avete chiesto l'ultimo video sotto nei commenti E quindi sono qua appunto a dirvi la mia opinione Quindi come avete visto dal titolo del video parlerò del closing Che ci dovrebbe essere, comunque che ci doveva essere ieri, l'altro ieri Per il Milan il closing avrebbe permesso all'accordata cinese di firmare appunto un accordo che gli avrebbe concesso tutto il Milan E avrebbe comunque messo tantissimi soldi Però non è venuto, è saltato per credo la quarta volta, questo closing si doveva fare a settembre E quindi un po' adesso tutti i milanisti stanno facendo qualche domanda oppure sono insospettiti Quindi raga, ora io vi dirò la mia opinione, voi potete avere qualunque opinione che voglia Però io vi dirò appunto la mia opinione su questa faccenda Io sono piuttosto esterefatto, non tanto perché non si concluda questo closing Ma per come Berlusconi sia intelligente, per come Berlusconi sia un cazzo di genio Perché? Perché secondo me, questa ripeto è la mia modestissima opinione Poi scrivetemi nei commenti qual è la vostra, potete assolutamente averne una diversa Il closing non esiste, è tutta una farsa, è tutta una comica, è veramente tutta una farsa Quei cinesi che avete visto nelle foto saranno quattro cinesi presi per strada da Berlusconi Il closing raga non esiste, poi magari mi potrò anche sbagliare Magari anche domani arriveranno i cinesi, firmeranno tutte buona Ma per me questa è la mia opinione, il closing non esiste Questi soldi sono dei soldi di Berlusconi Berlusconi sono dei soldi che arrivano dall'estero, ok? Sono dei soldi che arrivano dall'estero e che Berlusconi sta facendo inviare in Italia Fingendo che siano dei cinesi, ma in verità sono suoi Perché si continuano a inviare? Vi siete fatti due domande Perché secondo voi si continuano a inviare quando una vera trattativa con delle persone con i soldi Sarebbe dovuta concludere subito, appena arrivata l'idea ad agosto Avete visto il Palermo, Zamparini, boom, ha deciso subito e ha venduto Non è che ci vuole mesi e mesi di ritardo Non ha senso come cosa, così come l'Inter con Suning E quindi questi cinesi, raga, non esistono Lo conferma dal fatto anche perché Cannavaro, mi ricordo L'allenatore di quella squadra cinese che ora non so come si chiama Dove giocano Witz, Elpato, eccetera, eccetera E anche Oscar Ha detto che non li conosce questi cinesi Cioè tu come fai a non conoscere delle persone così importanti Delle persone così piene di soldi, come ha descritto il nostro presidente Cioè Suning li conoscono tutto il mondo E si vede infatti, ha acquisito subito l'Inter Quindi raga, questa è la mia opinione Per me i cinesi non esistono È tutta una tattica di marketing di Berlusconi Che per me se gli riesce tra qualche anno È un genio Perché lui si sta facendo inviare tanti tanti soldi Che vanno dai 100 ai 200 milioni Più compresi 100 che ha già a Milano Dall'estero Quando arriveranno i soldi saranno suoi Lui potrà rinvestire sul mercato Lui vuole continuare a fare il presidente del Milan Non vuole assolutamente lasciare la presidenza del Milan Forse lo farà fino a che morirà Perché è la sua squadra del cuore Assolutamente Vuole continuare a farlo E questa è la sua tattica Farà finta Ha fatto finta di tutta questa cosa da cinese Tra due mesetti vedrete smentirà tutto Più che smentirà tutto dirà che sarà assaltato I cinesi hanno deciso di ritirarsi Ma in verità non è così È tutta una falsa per il mio È lui che sta facendo inviare dei soldi Dall'estero per lui Per poi spenderli sul mercato Perché finalmente Di questo sono contento Anche se ormai ci sto un po' pigliando per il culo Finalmente per me Ha deciso di rinvestire sul mercato Ha deciso che vuole far Tornare il Milan Veramente Va veramente Forte Agli apici d'Europa Come lo era Come non lo è stato in questi anni E L'ho confermato al fatto anche che ha già preso un fassone Mirabelli E loro probabilmente saranno i dirittori sportivi Che andranno in giro a prendere i giocatori Quindi è tutto pronto È tutto fatto a pennello Per me la cordata cinese non esiste Ormai penso che lo pensino Tutte i tagli ormai È tutta una bufa La vedrete Tra qualche mese si smentirà tutto E arriveranno i soldi direttamente dall'estero A Berlusconi Farà finta che comunque lui si riterrà Come giusto che sia Ma i soldi in realtà sono suoi Stanno arrivando da un'isola Che ora non mi viene in mente Che è di sua proprietà E arriveranno direttamente da lui E è una gelarata raga Perché è una cosa che Essenzialmente è molto difficile da fare Lui ci sta riuscendo E se lui riuscisse tutto questo progetto Sarebbe veramente un fenomeno Un genio Anche se comunque ora come ora Non si sta comprando benissimo Perché sta prendendo per il culo Un po' tutti i tifosi rossi e neri Che comunque ci stanno male Per questa cosa Perché speravano nel closing E tutti i nomi che state sentendo Sul mercato Starridge Abomeyang Attenzione raga Non considerate Scusate il gioco di parole Perché se arrivassero questi soldi Nulla è impossibile E niente raga Questa è la mia opinione sul closing Che a parere mio non esiste Vedrete tra due mesi Le conseguenze di questa cosa Della non esistenza Di questo closing Che per l'ennesima volta È saltato Da settembre Che bisognava farlo E quindi per me È tanto che una bufala E i motivi Ve l'ho già detto Vi invito a lasciare Tanti pollicioni su qui sotto Un commentino E iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto E fatemi sapere la vostra Su questa Closing maledetto E niente raga Ci vediamo in un prossimo video Volevo comunque Farvi sapere Anche la mia opinione Su questa faccenda Che sta coinvolgendo Tutto il web E niente Speriamo bene Che cazzo di genio Che cazzo di genio